ciao appuntamento quotidiano dal primo di gennaio siamo il 10 di settembre 2024 fra qualche mese sarà un anno dove questo canale pubblica un video ogni giorno abbiamo raggiunto quota più di 729 video gli iscritti sono 493 ringrazio in questo momento tutti voi che guardate questi video tutti voi che avete qualcosa di affine tutti voi che pensate in grande voi che siete messi al primo posto e da molti anni avete compreso l'importanza di farsi ogni tanto delle domande domandarsi chi siamo da dove veniamo dove andiamo mettersi in discussione mettersi in gioco metterci la faccia come lo sto facendo io e mettere sempre il meglio davanti a sé da condividere per il prossimo fondamentale riconoscere la propria grandezza ma una grandezza unicamente per coltivare il proprio ego e come una grandezza che si ferma a primo scalino di una scala che porta molto in alto dobbiamo invece a mio avviso portare questa grandezza al di fuori di noi in modo da contaminare con la nostra luce e con tanta positività il mondo che ci sta attorno alle persone che ci stanno vicino che incontriamo regolarmente non è necessario di parlare tanto basta una parola basta uno sguardo basta la tua presenza al loro fianco regolarmente per dare a loro tanta energia perché è importante dare a loro tanta energia perché semplicemente più persone stanno bene meglio sta il pianeta meglio sta l'umanità non possiamo pretendere ad ognuno di credere quello che crediamo a noi non possiamo forzare nessuno a cambiare le proprie abitudini no non possiamo farlo ma possiamo fare il meglio e dare il meglio di noi stessi ogni giorno e trovare ogni giorno un insegnamento andare a dare potere a quella situazione quotidiana che hai vissuto che era positiva senza andare a focalizzarti su quello che non ti è andato bene su quello che giudichi in modo negativo perché alla fine finiamo per dare valore a qualcosa che non ne ha ed è la stessa cosa per questi grandi sono grandi e sono grandi nel loro essere questi loro queste entità che dall'oscurità dominano la terra da milioni d'anni anche loro ogni tanto bisogna lasciarli dove sono perché sono insignificanti non hanno nessun valore ai miei occhi ne hanno per loro sicuramente ma ai miei occhi loro non esistono loro li ho nominati fin troppo in questi ultimi dieci anni hanno portato che portano ogni giorno nefandezze basse vibrazioni sofferenza dolore sterminio sulla terra a loro va il mio più grande saluto un abbraccio anche a voi che seguite i miei video e siete sicuramente tantissimi alcuni di voi sono qui alcuni di loro sono sotto la terra altri sono su altri pianeti e questo messaggio per voi andate a casa vostra questa non è la vostra casa quando portate la distruzione invece di portare l'amore allora avete una scelta anche voi o portate amore o ve ne andate per sempre e la smettete di rompere i maroni a noi avete capito non c'è niente di più che devo fare per farvi andare via vi ricordo la vostra scelta è una scelta che potete fare ad ogni istante rimanere e condividere e diventare amore o andarvene e condividere e essere distruzione sofferenza ma qua siamo stufi non è più il vostro posto vi ringraziamo per tutto sicuramente è stato meraviglioso avervi conosciuti avervi visti ma care entità aliene o non aliene extraterrestre o non extraterrestre di origine animale o meno involucri belli meno belli avete fatto il vostro tempo adesso è nell'ora della vita e così sia e così è già sta già avvenendo c'è ancora tempo per andare andare tornare da dove venite c'è sempre tempo perché il tempo non esiste un abbraccio un abbraccio un augo facciamo crescere questo canale questo canale è meraviglioso noi siamo meravigliosi buona giornata e a domani